La crisi economica che continua ad alleggiare sul nostro paese ha creato forti tensioni anche nel tradizionale incontro-scontro tra siors e puersi, tra ricchi e poveri, a Tolmezzo, dove domenica si è conclusa la tre giorni della 77esima edizione della festa del Borgat. Lo si è potuto notare al momento dell'arrivo in Piazza Mazzini dei rappresentanti delle due classi sociali, sulle quali si gioca ironicamente il tradizionale appuntamento, che hanno messo in scena un vibrante alterco sui rispettivi pregi, vizi e debolezze. In questa edizione 2011, orfana dello storico Puar, Renzo Tondo, il presidente della regione, impossibilitato a partecipare, altri sono stati personaggi che hanno fatto la loro applauditissima comparsa, come i trigeminus supportati dall'assessore comunale Walter Marcon e dal consigliere comunale Renzo De Prato. Altra novità di questa edizione, l'improvvisato incontro-scontro, sempre tra ricchi e poveri, ma in versione fanciullesca. Il tutto allietato dal gruppo corale folcloristico Sottlanappe di Villa Santina e da decine di figuranti in costumi storici. A stemperare gli animi, mentre si suggellava la nuova pace tra le due fazioni, con lo scambio della baguline, il bastone e il fazzoletto bianco, purtroppo ci ha pensato un acquazzone, che ha costretto l'organizzazione della nuova proloco al ridimensionamento del programma, che comunque, in apertura, aveva mostrato alla folla presente in piazza un altro appuntamento ormai divenuto fisso da un paio d'anni, ossia la commedia teatrale amatoriale sul testo della Tolmezzino Giulio Astori, tratta questa volta alla storia di Romeo e Giulietta, però adattata in salsa carnica, recitata dallo stesso Astori e da Maria Grazia Chiapolino, da due balconi opposti del Borgat, sotto la regia di Alessandro Mistichelli, l'attore di diverse fiction italiane di successo, ora è impegnato a coltivare talenti locali che si approcciano al teatro attraverso la sua Accademia Sperimentale della Carnia.